Comunicando, comunicando, intanto della vita io mi sto innamorando, comunicando, comunicando Buonasera a tutti amici di Volonbrite, siamo qui ai Dialoghi sulla Salute 2018 e siamo in compagnia di due signori che hanno fatto parte dei gruppi di cammino. Come vi siete trovate? Bene, benissimo. Io sono istruttrice, mi sono trovata in questa esperienza molto bella che aiuta al benessere fisico ma soprattutto alle relazioni tra le persone che è una cosa molto importante. Allora, vi faccio due domande simili ma sotto due punti di vista diversi. Come ha fatto a iniziare questo percorso nei gruppi di cammino? Io l'ho iniziato andando in farmacia, mi hanno chiesto se volevo partecipare e ho detto di sì. E però mi sono trovata molto bene e lo rifarò. Me lo auguro, così il prossimo anno ci rivedremo di nuovo qua. E invece come si fa a diventare leader? Io mi occupo da tanti anni di educazione al movimento e poi sono entrata in contatto con la WISP e quindi loro si occupano di questo settore specifico, diciamo dell'adulto anche anziano e mi sono aggregata in modo, cioè proprio molto volentieri perché mi piace molto e soprattutto è qualcosa che serve veramente alle persone. bisognerebbe incentivare ancora più, con più forza, sì. Grazie mille di esservi prestate e arrivederci. Buona saluta a tutti. E intanto della vita io mi sto innamorando, comunicando, comunicando.